Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di libri del passato. Nell'ultimo periodo mi sta capitando sempre più spesso di riflettere, di ragionare sugli schemi, sugli archetipi che ritornano, che si ripresentano varie volte nella letteratura e di conseguenza a volte anche nella vita. Dio mio, la vita, che concetto grande e astratto, però poi vedremo un pochettino meglio nel dettaglio. Allora, quindi partiremo dalla letteratura e arriveremo alla vita. Allora, il primo archetipo è quello che io chiamo archetipo cristologico, cioè nato, morto e risorto. E secondo me riguarda, per esempio, questi libri qua. Vita in vendita di Yukio Mishima, Moby Dick di Melville e Chiede la polvere di John Fante. In realtà esiste proprio un parallelismo molto stretto tra Moby Dick e Vita in vendita, cioè Mishima e Melville avevano già fatto libri, libri di successo, perché, per esempio, vediamo il caso di Melville. Prima di Moby Dick aveva scritto già cinque libri, di cui due, cioè i suoi primi due, rispettivamente T.P. del 1845 e Umo del 1847, erano stati libri, tra l'altro, di grosso successo, perché erano libri in cui lui andava a raccontare la sua esperienza nelle isole tropicali e a contatto con le civiltà cannibali. Quindi, alla fine dell'Ottocento, essendo molto raro uno che potesse raccontare questo tipo di esperienza così estrema, così particolare, aveva proclamato un certo successo di questi libri, appunto, T.P. e Umo. Quando esce Moby Dick, il libro è troppo strano, troppo complesso, troppo confusionario per il gusto dell'epoca, tanto che è stato un coccente in successo, in successo che poi, lentamente, negli anni, è ritornato ad essere, appunto, il libro di culto che tutti noi oggi conosciamo, libro imprescindibile, no? Ok, questa dinamica, no? Questo archetipo cristologico, nato, morto e risorto, cioè, ritorna pressoché uguale anche per Vita in vendita di Mishima, cioè, Mishima aveva già fatto libri di successo, quando esce questo nel 68, è stilisticamente, per concezione, troppo lontano dalla sensibilità di quel momento lì, cioè, praticamente, ne ho già dedicato un video apposito, comunque era una sensibilità già pienamente postmoderna, già con un mescolone di stili, e quindi, appunto, questo libro era stato un flop pazzesco, che, 50 anni dopo, neanche tanto lentamente, anzi, velocemente, nel giro di poco tempo, è ritornato, è ritornato nel mercato, è stato ristampato, ed è diventato un successo postumo, un successo tardivo. Quindi, quindi, quindi è così, no? Quindi, questi due libri qui sottostanno esattamente allo stesso archetipo. Quando sono usciti, erano altri i libri di successo dei rispettivi autori, no? Ok. E sempre nello schema, appunto, di nato, morto e risorto c'è anche questo, cioè, questo libro, questo libro non è stato ristampato per 40 anni, poi è dovuto arrivare Cias Bukowski a dire Ciccics, vienbo qua, il capolavoro è questo qua. Allora è stato visto e riconsiderato, no? Ok. In tutt'altra dinamica, però, questo schema qui ha riguardato anche questo fumettuzzo di Landog. Cioè, vabbè, questa è una ristampa, no? Però, di Landog numero uno, quando è uscito, no? Si sa, è storia. Il distributore chiamò Bonelli, l'editore, e gli disse il fumetto è letteralmente morto in edicola, non l'ha comprato un cane. Poi fu questione di un po' di giorni, insomma, di un mesetto così e cominciò, appunto, il suo successo editoriale. Però, appunto, anche di Landog era morto. Ok. E poi è risorto. Ok. Ecco, e poi c'è, e poi invece c'è un caso intercapedine, che è questo qua, L'arte della gioia di Gugliarda Sapienza. Cioè, lei aveva pubblicato dei libri in vita, ma questo libro qui proprio non incontrava il gusto degli editori. scrisse anche un libro sulla sua esperienza che ha fatto in carcere, che era stato pubblicato dalla Rizzoli, La scuola di Revibbia. Libro anche di successo, ma nemmeno quello convinse Rizzoli a pubblicare questo. Nel frattempo lei è morta e il libro è stato autoprodotto tramite stampa alternativa dal suo vedovo, Angelo Pellegrino. Poi è stato portato in Francia. In Francia è stato apprezzato, dalla Francia alla Spagna, paesi sudamericani. Allora, solo dopo, Leinaudi ha detto, ah, ok, ok, va bene. Ecco, si dicevano archetipi, la vita. Penso un po', diciamo, ai rapporti di coppia. Magari anche voi conoscerete, no, delle persone, per esempio, che potrebbero sottostare all'archetipo Fellini-Giulietta Masina, cioè delle coppie in cui lui tradisce lei in eterno, nell'arco di tanti anni, lui la tradisce e le mette le corna, però lei sta lì, lei sta sempre comunque lì, di grigna i denti, si stufa, se la prende male, però sta lì. Conoscerete qualcuno così, immagino? Io conosco varie persone che sottostanno a questo archetipo. Andiamo avanti con la letteratura. Quest'altro schema qua, ecco, un libro ce l'ho e gli altri due, gli altri due no, però ci si intende, è quello che io chiamo archetipo alla Van Gogh, cioè esattamente come il pittore Van Gogh in vita ha lavorato, ha dipinto e non è stato considerato da nessuno, e solo dopo la morte viene capito, viene celebrato, ecco che l'archetipo Van Gogh riguarda anche sicuramente il caso di Kafka, che in vita non ha pubblicato nulla, riguarda il caso di Guido Morselli, l'autore del romanzo di Sipatio H.G., stessa cosa, nel senso stessa cosa, e anche il caso dello star ordinario Silvio Darzo e di Casa d'Altri. Silvio Darzo, scrittore che dire eccezionale e dire nulla, morto giovanissimo a 32 anni, ed ecco che appena morto il suo racconto lungo, Casa d'Altri, viene capito innanzitutto da Montale e poi dopo da tutta un'altra serie di critici, tra i quali poi negli anni Ottanta anche da il buon Manganelli, insomma, e così. E quindi è così, no? Quindi Silvio Darzo, Kafka, Guido Morselli, scrittori, appunto esattamente come Van Gogh, che sottostanno a questo archetipo. Poi, tornando alla vita, no? Alle coppie, ai rapporti di coppia, no? Ci sono, non so se conoscete, se conoscete delle coppie che si lasciano e riprendono nell'arco di 15 anni, di 20 anni, che sono sempre lì a mollarsi e riprendersi, dove si separano, no? Abitano nella stessa casa, e poi dopo abitano in due case diverse, e poi tornano a convivere e poi dopo si separano, così. Io ne conosco, e forse ne conoscete anche voi, no? Per questo archetipo, quello che io chiamo da successone all'oblio. E secondo me, potrebbe essere questo. Lo straordinario, i superflui di Dante Arfelli. Ah, 100 colpi di spazzola di Melissa P. E Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi. Allora, ok, diciamo che... Diciamo che tra... Anche se sono sottostati alla stessa dinamica editoriale, stilisticamente tra questo e questo ci passa un abissone. Cioè, questo è un capolavoro. Ne ho parlato anche di recente. È un capolavoro pubblicato nel 49 da uno scrittore di 28 anni, che era appunto Dante Arfelli. Questo libro è stato il più grosso successo commerciale della storia della letteratura italiana. Cioè, magari, adesso non lo so, comunque sicuramente prima di Il nome della Rosa, ma siamo molto prima, questo libro vende più di un milione di copie in Italia e poi viene tradotto in America e vende anche un milione di copie in America, eccetera. E quindi praticamente, cioè, Dante Arfelli per un periodo tra fine anni 40 e inizio anni 50 era un signor scrittorone anche se era molto giovane. Oggi, oggi probabilmente manca persino nei libri di testo della letteratura. Cioè, non te lo insegnano a scuola ed è tra l'altro un gran peccato. Anche la signorina Melissa P ha venduto milioni di copie, però il libro è molto più banale, è molto più stereotipato, è molto più insulso. Però, appunto, anche lei è passata dai milioni di copie a una carriera che l'ha fatta progressivamente, che l'ha vista, come dire, scrivere libri sempre meno incisivi, sempre meno influenti, e fino ad oggi che non so chi è che veramente legge ancora Melissa P. Vi posso dire, per conoscenza personale, che nel 2003, quando questo libro qui uscì, io conobbi i gestori di una rivista che mi dissero abbiamo un numero pronto e la nostra tipografia non ci stampa il numero perché hanno tutte le presse occupate soltanto per stampare questo. Quindi, per dirvi che incisione sul mercato ebbe su tutta la gestione e qua, qua, qua. E poi c'è stato questo, no? Anche questo qui ha venduto il suo milioncino di copie tra le varie edizioni, insomma, però, appunto, Enrico Brizzi è uno scrittore che purtroppo non è arrivato al ricambio generazionale, cioè non è stato il vasco rossi della letteratura. E ok. Detto questo, poi c'è l'archetipo l'archetipo del sempreverde, degli evergreen. Gli evergreen sono questi, per esempio. Sono questi. Sono questi. Il giovane Holden, Salinger, Cent'anni di solitudine, Marquez, Viaggione al termine della notte di Selene, cioè libri che, a loro apparire, hanno avuto un successo pazzesco e questo successo non si è mai arrestato dall'uscita fino ad oggi e praticamente in tutto il mondo. Quindi, quindi, libri, no? Stilisticamente compiuti e che hanno avuto la fortuna di incontrare il pubblico e appunto arrivare al ricambio generazionale e di essere, come dire, sempre nuovi. Cioè, il giovane Holden è quel libro scritto 70 anni fa che te lo leggi ancora oggi e ti dice ancora qualcosa di nuovo sull'umanità e su cosa vuol dire essere adolescenti. Viaggia al termine della notte è un libro che, scritto nel 32, cioè, stilisticamente fa paura. Cioè, la sua modernità, la sua modernità è impressionante. In senso nichilista, uno legge questo e dice ma io che cosa provo di scrivere un libro? Cioè, cosa scrivete libri a fare voi? Come si fa a superare questo? Sto scherzando, è un nichilismo così, alla buona. Scrivete tutti i libri che volete. Ecco. E poi ci sono quelle coppie che si lasciano, che rimangono grandi amici, che continuano a sentirsi tanto e sentirsi spesso, e poi ci sono invece quelle coppie che si lasciano magari neanche tanto male, però semplicemente il rapporto si è logorato e il dialogo non c'è più e proprio non si parlano mai più. Accade anche questo. Poi ci sono quegli scrittori, adesso ne prendo uno, un esempio così, è un caso a sé stante. In eterno galleggiamento, cioè, mai esploso di successo, mai dimenticato. Sergei Dovladov, scrittore russo, in questo caso qui, Decompromesso, è un libro di, un po' di autofiction, però anche giornalismo, dove comunque appunto tramite un po' di giornalismo e un po' di racconti brevi racconta una certa, una certa Russia particolare, vivace, sorprendente. Così, però insomma, e Dovladov è così, no? E quindi pensando a Dovladov mi veniva in mente, no? Questa sorta di immagine, per intenderci su, su questa letteratura, cioè immaginiamoci uno specchio d'acqua, un lago, immaginiamoci che ogni libro sia un sasso lanciato. Ci sono quei sassi, appunto, come il giovane Holden che viene lanciato con una tale potenza per cui continua a galleggiare, a rimbalzare sull'acqua in eterno per 80 anni. Tale è stata la grazia con cui è stato lanciato. Dipende dalla forma del sasso e dalla spinta che ha avuto, no? Ok. Contrariamente, per esempio, appunto, appunto, Dovladov è uno scrittore che paradossalmente, cioè sì, un po' saltella il suo sasso, un po' saltella sull'acqua e un po' affonda, no? Ma, appunto, in questo schema, in questo schema, no? Ecco, per esempio, cioè, se il giovane che della polvere fosse un sasso, sarebbe stato lanciato nel lago, affondato a strapiombo e poi da quale misteriosa forza metafisica, forza metafisica, no? Riemerso verso l'alto fino a riprendere i balzi della superficie. E poi c'è l'ultimo schema, cioè l'ultimo archetipo, quegli scrittori che partono modestamente e poi in maniera inesorabile e implacabile come una valanga che cresce, 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 sono arrivati ad essere qualche cosa di super pop, di frasi stampate sulle magliette, frasi ipercondivise, eccetera. Il caso del più che eccezionale buon, caro, vecchio Charles Bukowski, il caso del maestro giapponese Murakami e un altro, per dire una, anche James L. Roy sottosta a questo schema, cioè, soprattutto in America, i suoi primi libri vendevano piccole cifre e ora è un qualche cosa di esagerato. Ecco, ecco, vero è che ci sono differenze, cioè, per esempio, Murakami nel giro di pochi anni ha potuto vedere un successo molto maggiore rispetto al successo che vide in vita Bukowski per il suo lavoro, però diciamo che l'archetipo è questo, l'archetipo è questo, e quindi questo è, e questa è la mia ossessione, nel senso, mi domando sempre, mi domando sempre, ma, ma, cioè, tutti questi libri sottostano delle dinamiche così diverse, no? Ma, se noi andiamo a vedere veramente, cioè, stilisticamente, cioè, questo viene dimenticato per 40 anni fino a che Bukowski non ha detto Ciccx, vengo qua, questo non è mai stato dimenticato, è stato sempre più amato, ma se noi li confrontiamo, in realtà hanno qualcosa di molto simile, entrambi alternano meravigliosamente i registri, in entrambi c'è critica sociale, ironia, umorismo, sarcasmo, un sarcasmo corrosivo, in entrambi c'è c'è nevrosi, in entrambi c'è un personaggio inquieto, un protagonista l'inquieto che scappa, che si muove, dromomane, in entrambi c'è una tenera poesia, una visione, così, una visione dell'America ostile, no? Ok, no? Però, seppure sono stilisticamente così simili, no? Perché hanno avuto due destini così diversi? Sì, perché sono due libri diversi, ok? Eppure, eppure molto simili, molto simili. Perché tutto questo? e non lo so, e non lo so, sono, 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 le domande. Dai, siamo, bene o male, ecco, scritto così. E quindi, per concludere, per concludere, tutto questo discorso di archetipi, di schemi, riguarda, appunto, anche tanto, i rapporti di coppia, ma anche tanto, non lo so, amici che si lamentano del loro lavoro per 30 anni, amici che cambiano lavoro continuamente, amici che hanno un lavoro che trovano da 16 anni e fanno quello tutta la vita. Ci sono tanti, tanti, tanti archetipi. Tanto che, ecco, per concludere, mi domando, ma noi, non è che per caso siamo tirannizzati dagli archetipi? La domanda è metafisica, anche se la luce del giorno è ancora dolcissima, io vi ringrazio e vi auguro una bella buonanotte, ciccetti, a presto.